Entra in vigore da oggi la circolare del Ministero della Salute che dispone l'anticipo della dose booster del vaccino anti-covid da 6 a 5 mesi e la somministrazione alla fascia tra i 40 e i 59 anni. Fra qualche giorno anche nei centri vaccinali della provincia di Salerno sarà possibile fare anche senza prenotazione in qualsiasi hub nei centri più vicini la dose addizionale. Già tanti quanti si sono sottoposti alla terza dose soprattutto tra il personale sanitario ha dichiarato questa mattina ai nostri microfoni il dottor Arcangelo Saggese Tozzi responsabile covid dell'asl di Salerno che sebbene ha definito i numeri con dei contagi contenuti con circa 150 casi di covid al giorno ha dato notizia però di un cluster che si è attivato in una casa di cura di Cava dei Tirreni dove tutti gli anziani ricoverati sono risultati positivi. Da non trascurare ha detto poi il numero dei ricoveri al centro covid dell'ospedale di Scafati dove su 17 persone ricoverate 14 pazienti non risultano vaccinati. Stiamo aspettando che venga pubblicato in gazzetta l'autorizzazione AIFA a somministrare i vaccini a decorrere dal quinto mese dalla seconda dose. Appena questo sarà fatto noi tra qualche giorno potremo iniziare a vaccinare anche le persone che si recheranno presso tutti i nostri centri vaccinali a partire da quello che fa più più vaccinazioni che continua a fare più vaccinazioni che presso l'ospedale di Battipaglia ben diretto dal dottore Patella qui a fianco a me perché in questi centri vaccinali noi siamo in grado di fare immediatamente a tutte le persone che si recano al di là di dove vengono convocati importantissimo questo. Stanno arrivando in questo momento convocazione a casa delle persone a volte sono anche un po' in concluo perché vengono convocati in posti lontani. Non vi preoccupate recatevi direttamente al centro più vicino, più comodo, più a vostra portata. Presso questo centro superati i sei mesi e da domani dopo domani superati i cinque mesi chiunque può recarsi e fare la terza dose. Abbiamo fatto fino adesso 60.000 inoculazioni di terze dosi. Non poche se consideriamo che fino ad oggi al massimo se ne potevano fare 100.000 perché i primi gruppi di persone che avevano fatto le prime dosi erano limitati. D'ora in poi però raggiungiamo il grosso perché sicuramente nel mese di giugno è stato il momento in cui abbiamo fatto più seconde dosi. Raggiungeremo il grosso. Sarà importantissimo andare prima possibile proprio per evitare poi, e sta già succedendo, lo stiamo notando in questi giorni, qualche nuovo piccolo affollamento. Questo è un buon segnale. Significa che le persone al di là di quello che si dice hanno capito l'importanza del vaccino. Non serve solo a proteggere gli altri, serve anche a proteggere se stessi, a proteggere meglio se stessi. La terza dose ci dà quella copertura immunitaria che ci permetterà di affrontare, se proprio siamo colpiti dal virus, meglio. Un'informazione importante per capire tutto questo. Noi sui 17 ricoverati all'ospedale di Scafati che abbiamo in questo momento, 14 di questi ricoverati e di questi 14, i tre che stanno in terapia intensiva, sono persone che non si erano vaccinate. Allora questo è fondamentale. Il vaccino protegge anche le persone. Poi c'è l'atto generoso di protezione di tutti gli altri. Dottore Patella, parlare di dose di rinforzo dopo cinque mesi o sei mesi significa che la dose vaccinale precedente ha completamente perso efficacia? No, fa parte del completamento di un ciclo vaccinale. Ogni vaccino ha bisogno di dosi di rinforzo. Noi con questa dose a sei mesi e come ha accenato anche prima il dottore Saggese, da domani probabilmente avremo anche la possibilità di fare a cinque mesi, completiamo il ciclo vaccinale. Questo fa sì che il nostro organismo risulta essere molto più attivo nella risposta al virus, dove invece una vaccinazione incompleta rende non protetto il soggetto. Si parla di 50-60% per coloro che non proteggono. Ecco l'appello che facciamo veramente a tutti di fare la terza dose, perché la terza dose completa il ciclo vaccinale. La terza dose che adesso diventa eterologa, ricordiamo tutte le persone che sono state vaccinate con AstraZeneca, che ora invece si ritroveranno ad essere vaccinati con un vaccino RMNA. Sì, è una domanda che spesso ci fanno coloro che sono stati vaccinati con AstraZeneca, completano il ciclo vaccinale non con AstraZeneca, ma come diceva lei con l'eterologa. Quindi oggi abbiamo a disposizione il Pfizer. Invece per coloro che hanno fatto la moderna possono fare una dose, in questo caso ridotta, del 50% come terza dose.